Di nuovo buongiorno dalla nostra redazione, seconda parte del nostro Tg Mattina, ripartiamo dalla stampa regionale oggi in edicola, in particolare dalla lettura delle pagine interne del garantista d'Orso Calabrese. Il servizio in seconda pagina, in apertura di seconda pagina, in falsa apertura, è dedicato al commissariamento della Fondazione Calabresi nel mondo, che è stato deciso dalla Giunta al fine di assicurare, scrive il garantista, la certa liquidazione entro il termine del 31 dicembre prossimo. Ecco Pino Galati, il parlamentare presidente della Fondazione Calabresi nel mondo. Rossano, il Consiglio dei Ministri decreta lo stato di calamità naturale. Il governatore fa l'occhiolino a Renzi, il premier, ha mantenuto tutti gli impegni, dice il presidente Oliverio, poi il segretario del Partito Democratico Magorno ringrazia il sottosegretario alla presidenza Luca Lotti, la soddisfazione del primo cittadino di Rossano Antoniotti, che però osserva è semplicemente un atto dovuto. Rischio di alluvioni e zona economica speciale, il pressing totale di Sebi Romeo, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale che propone. C'è una questione reggio da affrontare subito, dice Romeo. E poi costi di rappresentanza ben 92 milioni all'anno per i politici calabresi, questo è l'esito dello studio prodotto da Demoscopica, il prestigioso istituto di ricerca presieduto da Raffaele Rio, che ha elaborato i mandati di pagamento riguardanti gli amministratori locali. Sesto posto per la nostra regione, seguita da Sicilia e Umbria. Poi welfare, migranti e scuola, l'aggiunta al lavoro. L'intervento di Lario Amendolia, quelle scelte popolari di Renzi che pagheranno i poveri e il Sud. Ancora, sopralluogo Arpacal, il sindaco disperato, noi lasciati soli, rifiuti tossici a lattari, così domanda il garantista dopo il presunto caso di veleni nascosti nel sottosuolo, si attendono i risultati ufficiali tra una settimana. Il presunto caso sollevato, anzi risollevato dalle dichiarazioni del pentito, pulicano. Gli insegnanti chiedono aiuto ai sindacati e ai consiglieri, questo per ciò che concerne la scuola, mentre il caso Calabria batte Red Bull e diventa energetica. La Red Bull aveva intentato una causa contro l'azienda che produce questa bevanda energetica a Crotone, ma l'ha persa antimafia e la gerbera gialla diventa anche un olio. Questi titoli a centro pagina, mentre in falsa apertura, ecco l'annuncio, Gerreggio, una nave con 225 migranti morti in quattro. Dopo l'identificazione per molti, il viaggio continuerà verso il Veneto e la Toscana. E poi ecco la vicenda relativa alla villa svaliggiata al boss Bellocco. Qualcuno è entrato nell'edificio di proprietà dei Bellocco, distruggendo praticamente tutto al suo interno. La polizia ha trovato appeso un rosario, messaggio della mafia allo Stato, per sottolineare il proprio potere. Ovviamente tutto è meno che un'intimidazione allo stesso boss Bellocco. Prima di passare alle altre notizie, queste riportate sul quotidiano del sud e quindi approfondire le cronache provinciali, ecco la nostra rubrica appuntamenti. Al via Vibo Valencia la quinta edizione di Tarantella Festival 2015. L'appuntamento è in municipio a partire dalle 21 e 30. A Gioiosa Ionica la terza edizione dei Tamburi di San Rocco Festival, serata con Gioiosa Percussioni Festival, i Tamburi di San Rocco, ricca e suggestiva Kermess promossa dal comune di Gioiosa Ionica. A Paola nell'ambito del Peperoncino Jets Festival, a partire dalle 22, Eric Daniele Masen Tango, al Parco Europa, ingresso libero. A partire dalle 21 e 30, ad Acri, Luca Barbarossa in concerto. L'evento si terrà nell'Anfiteatro Comunale, tappa calabrese per il cantautore romano che ripercorrerà i successi musicali della sua carriera, iniziata come artista di strada nella seconda metà degli anni 70. Alla mezzia terme, Locke di Stephen Knight. Ivan Locke guida nella notte verso Londra, nell'ambito del La Mezzia Summertime 2015, cinema e cinema. A Cellara, a partire dalle 22, Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea a Taranta Project in concerto, in occasione della sfilata delle Pulcinelle. L'appuntamento a partire dalle ore 22. Alluzzi, notte della Resistenza, in memoria dei 70 anni dalla liberazione. In primo piano sul quotidiano del Sud, la polemica è innescata dalle parole del commissario al piano di rientro del deficit sanitario. Massimo Scura, che ai cittadini di Trebisacce, quindi nel Cosentino, ha detto, siete quattro gatti, curatevi fuori regione. Parole riportate nell'edizione di ieri del quotidiano, oggi oggetto di un articolo di ritorno che riporta quindi la presa di posizione contro Scura. Ed ecco, indignati per le tesi di Scura, sanità, il commissario notifica la decisione. Il giorno 9, Consiglio Comunale aperto ai parlamentari, consiglieri e sindaci. A Trebisacce monta la protesta per la mancata riapertura dell'ospedale. La polemica, ottemperare la sentenza del Consiglio di Stato, la richiesta e la consulta giovanile al commissario per il piano di rientro. Mentre, in basso, infermieri chiedono chiarezza nel reclutamento. Il caso, una delegazione in attesa della mobilità, ha incontrato il commissario. E poi, Oliverio chiude le porte a Galati, è il caso della fondazione Calabresi nel mondo. Regione, troppi impegni, slitta la riunione dei consiglieri parlamentari del Partito Democratico, bando per i direttori delle ASP. Il lavoro si punta a un piano con le parti sociali. E poi, l'agenda Calabria per Renzi, il capogruppo Romeo stila le priorità a partire da Reggio. L'ufficio del commissario, invece, va a Palazzo Alemane. Nel Dipartimento Salute ha evidenziato l'insufficienza degli spazi. Aeroporti, arriva l'occhei di Roma. È il piano degli aeroporti che raggiunge il via libera definitivo. Aeroporti, arriva l'occhei da Roma. Genova, esclusa, nonostante il via della Commissione dei Lavori Pubblici del Senato. I tre scalii calabresi, tra quelli di interesse nazionale, quello di Lamezia, viene definito addirittura strategico. La borsa, dopo il crollo, arriva l'aiuto della Cina ai mercati di tutta Europa. Pechino ha favorito l'acquisto di azioni per crescere Shanghai. Quindi anche il quotidiano tratta temi di finanza internazionale. Ed ecco il servizio dedicato invece allo stato di calamità dichiarato dal Consiglio dei Ministri, che ha stanziato 3,9 milioni per i danni nei comuni dei sindaci alluvionati dal nubifraggio del 12 agosto scorso. Il sindaco di Rossano era un atto dovuto, ora motivo di speranza. E prima di andare avanti, ecco un'altra delle nostre rubriche. Scopriamo chi è il santo del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo e insigne dottore della Chiesa. Convertito alla fede cattolica dopo un'adolescenza inquieta nei principi e nei costumi, fu battezzato a Milano da Sant'Ambrogio e tornato in patria e condusse con alcuni amici vita ascetica, dedita a Dio e allo studio delle scritture. Eletto poi vescovo di Ippona in Africa, nell'odierna Algeria, fu per 34 anni maestro del suo greggio, che istruì con sermoni numerosi scritti, con i quali combatté anche strenuamente contro gli errori del suo tempo o espose con sapienza la retta fede. Ancora dalla Quotidiano del Sud, nuova intimidazione alla Coop, cartello intimidatorio contro il responsabile Devi Morire, Giovani in Vita gestisce terreni confiscati alla criminalità organizzata. Una croce tracciata su un cartone al centro della quale con qualcuno ha scritto il cognome di Domenico Lupino, direttore generale della cooperativa sociale Giovani in Vita, con la frase Devi Morire. Il cartello è stato affisso dai gnoti, probabilmente durante la notte. Cultura come valore identitario. È l'intervista che la Presidente della Commissione Cultura della Camera, Flavia Piccoli Nardelli, rilascio ad Annalia Incoronato. Questa sera dibattito a diamante con il Rettore dell'Università della Calabria, Gino Mirocle Crisci. Gli insegnanti si preparano alla protesta, il servizio invece di spalla a questa intervista. E ancora andiamo avanti. Non volevo che morisse. Questa è la difesa di Leonardo Procopio, cioè l'uomo accusato dell'omicidio dell'anziana, Antonia Rotella, la novantenne, che è stata uccisa nel corso di un tentativo di rapina, una rapina finita in tragedia, sabato scorso a Catanzaro, negata la richiesta di derubricazione del reato avanzata dal difensore dell'indagato, negata appunto dalla GIP, che non ha convalidato il fermo, ma ha ordinato la custodia cautelare appunto di Procopio. Falsi braccenti agricoli scattano 176 denunce, mentre dalle Omeca di Reggio, quindi dal sito dell'Ansaldo Breda, la visita ispettiva del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. Fiume freddo, acqua putrida scaricata in mare dalla torrente Vardano, una scia puzzolente e migliaia di vermi rossi. E poi la notizia che ieri si è diffusa sulle agenzie di stampa. Sette medici indagati. Primi atti giudiziari per la morte della giovane madre. La 25enne Maria Scarpino soffriva di una malattia congenita. Una malattia congenita però, che non le ha certamente vietato di mettere al mondo un primo figlio. La successiva gravidanza, quella che non è riuscita a portare a termine, che si è interrotta drammaticamente al settimo mese, la vedeva in attesa di due gemelli. Due gemelli che sono spirati insieme a lei. Sette medici indagati in un'inchiesta che noi vi abbiamo raccontato così. Sette medici dell'ospedale di Crotone sono indagati nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica sulla morte di Maria Scarpino, la donna di 35 anni, incinta di due gemelli al sesto mese di gravidanza, deceduta ieri. Nei confronti dei sette medici si ipotizza il reato di omicidio colposo. L'inchiesta della Procura della Repubblica è stata avviata dopo la denuncia del marito della donna, Raffaele Ferraro. Il sostituto procuratore, Alessandro Riello, ha disposto l'autopsia. E intanto la Procura ha nominato due consulenti, il professore Pietro Antonio Ricci e la dottoressa Silvia Boca, ai quali domani pomeriggio sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Maria Scarpino, giunta nell'ospedale di Crotone sabato scorso, era stata ricoverata nel reparto di ginecologia. Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, le condizioni di salute della donna si sono aggravate tanto da essere sottoposta ad un esame urgente nel corso del quale è però deceduta. La donna che soffriva di una patologia genetica aveva sostenuto un'altra gravidanza, dando la luce a una bimba oggi di tre anni. Accanto a questa notizia il Quotidiano del Sud riporta un'altra vicenda di presunta malasanità aperta in chiesta sul bimbo nato morto. Anche questa notizia di cronaca giudiziaria che viene da Catanzaro, servizio a firma di Paolo Orafino, le pagine interne del Quotidiano del Sud dalle province, il treno delle residenze universitarie, Catanzaro Capoluogo, vantaggi ai proprietari e coinvolgimento dei commercianti. Granato, vicepresidente nazionale di Federproprietà, spiega l'accordo sul centro. Soverato, depuratore, arriva il finanziamento. Per quanto invece riguarda la mezzia terme, le aree di interventi nel sud, un'occasione per la mezzia, parla muraca di la mezzia unita, inserire la nostra città. E ancora crotone, nervi scoperti nel centro-sinistra, ancora fribrillazione nel Partito Democratico che ha visto nascere una nuova area, duro botta e risposta tra il Partito Democratico e i demasi del gruppo. 139. Passiamo invece alle pagine di Cosenza. Un altro bando per pochi intimi. I termini per partecipare alla gara milionaria sono scaduti il 26 agosto. Ambrogio punta il dito contro l'appalto estivo per i lavori del planetario. Dal terreno cosentino, sinistro all'uscita del distributore, l'uomo è stato trasportato in disoccorso all'annunziata di Cosenza. Nello scontro violento fra un'auto e una moto, il centauro perde addirittura un arto. La ionica cosentina parte il ripristino dei fossi di scolo. Ruspe e mezzi pesanti da ieri operano a Lido Sant'Angelo. I lavori proseguiranno fino a quando non saranno tutti sistemati. Ovviamente si parla del post alluvione nei comuni della ionica cosentina. Reggio Calabria, tanti candidati senza requisiti. Direttori generali della Sanità, la denuncia della UIL di Nuccio Azzarà, non hanno mai avuto incarichi di struttura complessa. La tirrenica regina, a ragione la provincia di Reggio, si parla della Gallico Gambaria, la sentenza del Consiglio di Stato sull'operato dell'ente, respinte le pretese del Consorzio Calos per l'opera viaria, pagherà anche le spese. La grecanica, caso Meduri, dimissioni, la presunta incandidabilità del sindaco, Minnite accuse il primo cittadino di aver preso in giro la gente. E la Locride, roccella ionica, appalti pubblici, si volta pagina, convegno sulla nuova normativa che recepisce le direttive europee. Il senatore Esposito finisce il tempo delle deroghe e delle gare al massimo ribasso. La Piana, bando pubblicato, strada più vicina, si parla della Palmi Seminare, il provvedimento della stazione unica appaltante, appalto di quasi un miliardo. L'opera condurrà dall'arteria provinciale all'area più interna di Garanta. Passiamo invece a Vibo Valencia, PSC, Piano Strutturale Comunale. Il sindaco affonda la Pugliese, si dovranno valutare gli oltre 130 rilievi presentati a suo tempo al testo. Costa ha deciso a dare vita ad uno staff tecnico interno a Palazzo Luigi Razza. Questo è il titolo del quotidiano del Sud, un breve passaggio alle notizie di Sport, sempre dal quotidiano. Anche il Catanzaro dirà la sua, nessun gol nell'amichevole di ieri di Isola Caporizzuto. Domani testa a Roccella, ad Urso sul calendario inizio impegnativo, ma anche gli altri dovranno temerci. Non si poteva più aspettare. Se sarà il caso, allora faremo i dovuti correttivi, garantendo la regolarità del torneo. Il commissario Miele spiega il perché dei calendari, nonostante le incognite. Si tratta ovviamente dei calendari di Lega Pro e poi al Crotone manca l'ultima pedina. Intanto i pitagorici si godono Firenze, il DS Ursino, Blinda Torromino potrebbe arrivare dalla Germania, la punta che dovrà sostituire Ciano. Dalla Serie D la regina fa nove reti nel test con la Juniores. Un ultimo sguardo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Giorgio Giolli per l'Inter mi faccio in 10. Questo è Jovetic. Mentre per la Juve tutto in salita. Roma c'è il Barça e sono questi i gironi della Champions. E poi in vetrina, ovviamente, ancora Usain Bolt che vince anche i 200. e batte ancora una volta Gatlin. Con questa notizia è veramente tutto. Grazie per l'attenzione. Vi rinnovo l'invito a seguirci al nostro appuntamento delle 13.45 per l'edizione del Tg Giorno. Grazie ancora per l'attenzione. Un felice proseguimento di giornata con i nostri programmi. Amici di La C, una giornata di venerdì caratterizzata da condizioni di stampo anticiclonico su tutta la penisola in un contesto assolutamente estivo. Lo vediamo anche dalla grafica. Anticiclone delle Azore che si fonde con quello subtropicale. Aria fredda concentrata sull'Inghilterra colorata in verde, ben distante dal Mediterraneo centrale, quindi dalla nostra nazione. Sull'analisi 1500 metri di altezza vediamo confermarsi quanto è indicato dalla precedente cartina con ben evidenziata la componente subtropicale, quella africana, che è ben salda sul Mediterraneo centrale e il fatto che i due anticicloni vedano la componente africana con maggior vigore significa che le temperature saliranno oltre 35 gradi su molte parti d'Italia e i tenori di umidità, vista la componente africana dominante, dicevo i livelli di umidità saranno molto elevate così si avrà una sensazione di afa che renderà le giornate di questo weekend assai fastidiosi in aree distanti dal mare e in aree comunque scarsamente ventilate. Passando uno sguardo di insieme sulla nostra penisola vediamo assenza totale di fenomeni dal nord Italia fino alla Sicilia e alla Sardegna in un contesto di stabilità meteorologica che si manterrà per tutti i weekend almeno fino all'inizio della nuova settimana. Nord Italia con tanto sole sulla fascia ligure così come anche sull'Alta Adriatico, scarse le nubi sull'arco alpino e nell'entroterra in un contesto di temperature oltre i 35 gradi a afro e umidità piuttosto marcate e assai fastidiosi. E' assolutamente estiva le condizioni su tutto il centro d'Italia con entrambi i settori costieri ioni adriatico e tirrenico caratterizzate da 33-34 di massima i valori termici in un contesto di stabilità meteorologica che durerà nel weekend. Tanto sole, condizioni di stabilità meteorologica assolutamente godibili, le condizioni a carattere estivo su tutto il meridione d'Italia, dalla Puglia alla Calabria alla Sicilia nomineranno condizioni estive per tutti i weekend in un contesto assai gradevole da vivere all'aria aperta, magari in riva al mare. Tanto il sole sull'intera costa ionica, dal Golfo di Taranto al Golfo di Soverato fino alla ionica Regina, tanto sole sul Tirreno-Cosentino, sull'Ametino, sull'intero perimetro della costa vibonese, Tropea, Vibomarina e Capovaticano con condizioni assolutamente gradevolissime in un contesto di temperature estive con valori oltre la media del periodo. A seguire una giornata di sabato, ma sarà così anche domenica, con condizioni assolutamente invariate, massime oltre i 30 gradi, consiglio la permanenza in riva al mare o in aree ventilate, sconsiglio invece la permanenza in aree distanti dal mare, e comunque in aree dove l'umidità farà sentire i suoi effetti. Non variano le condizioni neanche nella giornata domenicale in un contesto di assoluta stabilità meteorologica che al sud permanerà ancora per alcuni giorni. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Garotaro, per gli amici di L'AC. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.